Musica Eccoci qua cari amici bentornati, nuovo appuntamento con Calciomania Dilettanti questa sera abbiamo molte immagini, molti gol da farvi vedere stiamo entrando nella zona calda del finale di stagione tante situazioni ancora aperte, molte squadre in lotta per non retrocedere qualcuna in lotta per vincere il campionato, non perdiamo tempo vi presento subito l'ospite di questa sera, arriva da fuori provincia addirittura difensore della Governolese Mauro Bonaccorsi, ciao e benvenuto a Calciomania Grazie, buonasera Accanto a lui Giacomo Lasano Ciao Andrea, ciao Mauro, buonasera a tutti Che arriva da Bagnolo, non è fuori provincia, ormai sei di casa Sono di casa, quasi acquisito, cittadino quasi acquisito Partiamo perché come detto abbiamo tante immagini dobbiamo partire dalla Serie D La Castellana ancora purtroppo ci viene da dire in lotta per evitare la zona calda della classifica quella che vorrebbe dire retrocessione era impegnata sul campo del Gozzano un match sulla carta, dobbiamo dire abbordabile e invece purtroppo è andata così Cinque punti di margine a cinque giornate dalla fine la barca biancazzurra deve ancora prodare a riva per dirsi completamente salva La Castellana viene sconfitta a 2-0 dal Gozzano ma riesce a restare ai margini della pericolosa zona play-out Giornata storta per la truppa di Cogliandro che schiera i suoi con il 4-3-3 con i recuperati culibali in mezzo al campo e mazzali in difesa Davanti giocano Co, Gambirasio e il giovane Dossena Fin dal calcio d'inizio i piemontesi provano a prendere in mano il pallino del gioco Al sesto è l'ex Mantova Noman a sfiorare il gol con un pallonetto che scheggia la traversa Cabrini ci prova in tapin ma senza fortuna L'attaccante della squadra di casa si rende pericoloso anche al 31esimo quando confeziona un assist per Noman che impatta male e manda a lato La pressione del Gozzano viene premiata al 38esimo quando i soliti due mettono in piedi l'1-0 Altro assist al bacio di Cabrini che stavolta il panzer ex Mantova riesce a girare in rete La formazione di casa ipoteca il match all'inizio della seconda frazione Corre l'ottavo minuto quando Gemelli ribadisce in rete di testa la respinta della difesa goffredese è il 2-0 che pesa come un macigno Arioli e compagni vanno vicini a riaprire l'incontro al 22esimo quando Napolano sugli sviluppi di un corner calcia addosso al portiere Che non sia giornata lo si capisce anche il 26esimo quando Gambirasio manda largo dopo una gentile concessione della retroguardia tocense Il tutto viene confermato dal Rosso che Pini si becca assai dalla fine per un brutto fallo a centro campo Sul match cala il sipario Vince il Gozzano 2-0 per la Castellana La missione non è ancora compiuta Allora Mauro dobbiamo dire che quando si vedono questi tipi di partite sono proprio giornate che nascono storte e storte finiscono Magari la squadra avversaria non ha fatto tantissimo ha sbagliato qualche gol, due li ha fatti invece la Castellana proprio probabilmente è quando si dice che potevano giocare per due giorni che tanto non avrebbero fatto gol È vero, sta succedendo anche noi purtroppo spesso perché capitano i periodi o le partite dove purtroppo gira tutto male e come la partita che ha fatto la Castellana magari come dici tu si può tirare in porta e tirare in porta ma la palla non entra mai Giacomo, la palla non è entrata io ho detto nel servizio ci sono ancora 5 punti di margine sulla zona play out la Castellana non deve scherzare troppo col fuoco però partiamo pure dai risultati così poi ci soffermiamo sulla classifica invece di Serie D che è quella che ci interessa dicevamo è ancora tutto da scrivere Castellana è sconfitta come avete visto 2-0 gli altri risultati l'Aurora vince 2-1 sul campo dell'Alzano Borgomanero cade 4-0 contro il Caravaggio poi questo risultato a sorpresa il Darfo Boario, fanalino di coda della classifica di Serie D che vince 5-0 col Pontisola l'Inveruno si conferma e batte 3-1 in Piacenza sta un po' rallentando invece la capolista la propria Cenza che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Legnago se invece diamo uno sguardo alla classifica che è quella che ci interessa di più Giacomo vediamo la Castellana in una situazione ancora abbastanza tranquilla però diciamo non si può scherzare col fuoco no e soprattutto la Castellana diciamo che deve mettere magari miglior qualità nelle partite perché abbiamo già visto come nella sconfitta della settimana scorsa in casa con l'Inveruno anche in quella dell'ultimo weekend a Gozzano la Castellana non ha giocato da Castellana nel senso che abbiamo visto ad esempio la prima azione da gol creata addirittura dopo un'ora di gioco quindi forse già paga del fatto di essere comunque a buon punto per quanto riguarda la salvezza la Castellana però non può permettersi di scherzare e quindi massima attenzione ecco forse questo aspetto è quello più importante che forse sono venute meno le prestazioni cosa che invece solitamente siamo sempre stati qua e dell'oggiare tieni l'icona aperta perché la settimana prossima possiamo già anticiparlo ci sarà il tecnico della Castellana Cogliandro qui da noi in studio quindi insomma poi ne parleremo anche con lui andiamo invece adesso a parlare del campionato di eccellenza possiamo tornare in studio dobbiamo mostrarevi le immagini del match della Governolese la Governolese di Mauro che sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere aggrappata al campionato di eccellenza Governolese che era impegnata in casa contro la Pedrocca vediamo le immagini adesso crederci è d'obbligo una Governolese paziente cinica porta a casa tre punti vitali nel match interno con la Pedrocca regalandosi una domenica finalmente da protagonista un successo meritato quello del team di Frutti che potrebbe riaprire una stagione sin cui maledetta quello che dovranno fare ora i Pirati è sotto gli occhi di tutti vincere, vincere e ancora vincere per raggiungere quantomeno la zona play-out a cinque giornate dal termine la classifica rimane ancora deficitaria per non dire terribile ma perlomeno i Rosso-Blu l'hanno dimostrato in maniera chiara ed evidente di volersi giocare in quest'ultimo mese tutte le carte a disposizione per centrare l'obiettivo sotto un sole tipicamente primaverile padroni di casa e bianco-rossi hanno dapprima dato vita ad un primo tempo alla Camomilla inframmezzato solo dai timidi tentativi del locale Saponaro prima e di Piovanelli poi tutt'altra musica invece nella ripresa nei primi minuti a schiacciare il piede sull'acceleratore sono i Bresciani che al cinquantatresimo colgono addirittura il palo con la zuccata di Pizzamiglio il brivido corso scuote i Pirati che finalmente iniziano a macinare gioco e creare occasioni al settantaduesimo Mr. Frutti azzecca la mossa vincente inserendo Rossi al posto del troppo statico Orecchia ed è lo stesso attaccante un solo minuto dopo ripagare la fiducia del tecnico sbloccando la gara con un preciso diagonale che non lascia a scampo l'estremo Gandossi il vicini ritorna ad esplodere prima della fine i padroni di casa riusciranno addirittura a trovare la seconda rete con Saponaro che ricevuta palla dal compagno Buza non ha problemi a realizzare a porta praticamente sguernita a Governolo si torna a sperare si torna a sperare prima di parlarne con Mauro direi siccome è una pillola brevissimo sentiamo anche l'intervista che il nostro Giacomo Lasagna ha raccolto con il tecnico dei Pirati Frutti al termine della gara una vittoria tripla non doppia e sono felicemente contento per la prestazione della squadra sono contento perché sono tornati ai gol gli attaccanti che per noi vuol dire molto non abbiamo preso gol e anche questa è una situazione importante per noi la squadra ha acquisito un po' più di fiducia abbiamo fatto esordire altri due lignores abbiamo fatto una buona partita tonica abbiamo anche a tratti giocato un buon calcio qualche episodio ci è stato favorevole finalmente e alla fine credo che il successo sia meritato e sia un buon auspicio per la prossima gara che andiamo a giocare a Sarnico sicuramente dobbiamo cercare un attimino una volta trovato il vantaggio di non appiattirci troppo all'inghietro e cercare di gestire meglio la palla perché sono in grado di farlo però l'aspetto mentale in questo momento è ancora un po' così e così è chiaro che questa vittoria può dare molta più fiducia molta più autostima e sono sicuro che possiamo continuare Parla da saggio Mr. Saurofrutti uomo di calcio ed esperienza Mauro è d'obbligo crederci diceva Giacomo anche se non mancano molte partite sono prestazioni comunque incoraggianti Assolutamente sì è stata una partita che può darci morale può darci una spinta anche per perché nelle ultime partite poi se non sbaglio ne abbiamo due in casa dove noi riusciamo a giocare meglio il calcio che vuole Mr. Frutti dobbiamo crederci assolutamente anche perché è tutto in bilico nel senso che anche le altre squadre ultimamente non stanno facendo non stanno facendo grandi prestazioni e grandi vittorie nel senso che comunque anche loro lasciano punti per strada importanti per la salvezza e per cui visto che noi non abbiamo tra virgolette niente da perdere è giusto che dobbiamo provarci in tutti i modi anche per i tifosi perché veramente in casa ci danno una spinta importantissima che fuori casa facciamo io sono qua da gennaio tu come ti stai trovando a governo perché il calore dei tifosi queste sono cose probabilmente che escono dai confini della provincia cioè chi gioca a calcio sa che a governo c'è un tifo di un certo tipo però sono davvero come si usa dire il dodicesimo uomo in campo sì è vero assolutamente io sono di Brescia e anche ragazzi che conosco che giocano nei direttanti dalle mie parti conoscono tutti questa piazza perché veramente quando una squadra ospite che viene a governo a giocare fa più fatica magari che gli altri canti fa più fatica perché è veramente uno stadio caldo i tifosi sono molto caldi e ci fanno sentire la loro presenza è molto importante forse anche perché veramente in casa si fa meglio si gioca un calcio diverso non abbiamo paura ecco di proporci come dovremmo fare anche fuori casa certo Giacomo con l'aiuto dei risultati andiamo a vedere l'ultimo turno perché se sorride la governolese che quindi tiene viva questa fiammella questa speranza per rimanere in categoria purtroppo è andata male invece all'Asola che è stata sconfitta 2-1 non è bastato il gol di Chito vado a memoria per riuscire ad avere la meglio quantomeno pareggiare contro la Ghisalbese e quindi insomma anche l'Asola in una posizione non certo facile di classifica ci siamo soffermati più che altro sui risultati delle mantovane magari diamo uno sguardo alla classifica giusto per capire l'Asola al momento infatti è quart'ultima ha 5 punti di vantaggio proprio sulla Ghisalbese era uno scontro diretto che insomma forse i biancorossi dovevano fare qualcosina in più si è una sconfitta molto pesante molto pesante per l'Asola perché soprattutto è maturata negli ultimi 5 minuti di gioco teniamo presente che fino all'ottantottesimo i ragazzi di Franzini conducevano 1-0 poi hanno preso il 2-1 su calcio di rigore a 93esimo è un'Asola che fatica molto in questo giro in ritorno nel 2014 se non erro ha vinto mi pare una sola volta proprio con la governolese quindi è una squadra che sta faticando fatica molto e la classifica adesso la vediamo ci fa capire anche il perché eccola qui fatica molto a segnare purtroppo adesso come si suol dire c'è dentro quasi a piedi pari perché insomma 29 punti significano quart'ultimo posto e quindi piena zona play out anche qui la situazione sembrava quasi che fosse già praticamente salvo al termine del girone di andata invece purtroppo con questo girone di ritorno un po' un crollo un po' verticale eh sì 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 e forse anche inaspettato certo e comunque in bocca al lupo questo ne approfittiamo per fare in bocca al lupo sia all'Asola che ovviamente alla governolese dobbiamo solo sperare di non arrivare proprio al termine con le due mantovane contro perché sarebbe la cosa peggiore ma siamo fiduciosi andiamo invece in promozione a vedere i risultati del 25esimo turno dobbiamo dire purtroppo che il Marmirolo non ha giocato c'è stato un problema di tipo logistico nel senso che sono andati a fuoco gli spogliatoi per fortuna non è nessuno si è fatto male però ovviamente la gara non si è disputata per quanto riguarda il Sarginesco invece Giacomo è arrivato un capò 1-0 contro la dell'Ese sì è arrivato un capò anche qui un capò diciamo che rischia di pesare molto soprattutto sul morale perché come poi vedremo nella classifica anche il Sarginesco non naviga sicuramente in acque tranquille allora vediamo la classifica torniamo pure in studio e mostriamo i dati perché anche qui dobbiamo dire è una situazione simile alla situazione del gerone di eccellenza del nostro amico Mauro il Marmirolo sta facendo un po' passami il termine Mauro la governolese e il Sarginesco sta facendo un po' l'asola di turno sì il Sarginesco soprattutto tutto è molto altalenante nei risultati ne vince una ne perde una poi magari pareggia ritorna a sconfitto una settimana fa eravamo qui a commentare un rotondo poker alla Prodesenzano oggi invece stiamo commentando appunto una sconfitta arrivata in casa della dell'Ese anche qui ci sarà da faticare fino alla fine perché come vediamo anche il Sarginesco per ora è diciamo non può dirsi salvo pienamente coinvolto anzi esatto in zona play out sono molte analogie tra le vostre le mantovane di eccellenza anche se loro possono vantare il fatto comunque di avere la Prodesenzano praticamente spacciata mentre noi non si può sbagliare niente dovete venire fuori voi da quella posizione altre immagini andiamo in prima categoria immagini che arrivano da Vescovato match tra Leoncelli e Casteldario il Casteldario si salva a Vescovato ma vede la coppia di testa allontanarsi le vittorie di Dac e Castelvetro fanno scivolare nuovamente a meno 4 i bianconeri bloccati sull'1-1 dalla Leoncelli la gara è stata a due facce con i padroni di casa che hanno dominato i primi 45 minuti salvo poi rintanarsi nella seconda frazione lasciando il pallino del gioco ai ragazzi di Corchi l'inizio di gara è di marca cremonese con Damiani a creare scompiglio nell'area mantovana l'attaccante della Leo mette anche la propria firma sul vantaggio dei padroni di casa è il 25esimo quando scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Savi con un tocco morbido e preciso il Casteldario è poca cosa e va negli spogliatoi sotto 1-0 l'atteggiamento con cui Bevini e compagni tornano in campo è totalmente diverso più aggressivi più concentrati più intraprendenti e i frutti vengono subito raccolti corre infatti il 52esimo quando Zanoni e Matkovic vengono a contatto in area per l'arbitro è rigore dagli 11 metri va Palmieri che non sbaglia e sigla l'1-1 acquisita la parità gli ospiti provano a vincerla ma devono fare i conti con la giornata di grazia del portiere cremonese Sandrini che al 61esimo salva la porta sul tiro di Palmieri deviato da Michelotto e al 66esimo si oppone al tiro di Florez dopo un bello scambio con Bevini a tempo scaduto la Leoncelli rimane in 10 per il doppio giallo ha migliorati ma il risultato non cambierà più partita a due facce quella tra Leoncelli e Casteldario andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno perché come si diceva la coppia di testa non rallente quindi il Casteldario perde un po' di terreno questi i risultati con il Casaromano che batte 1-0 il Sallazzaro Castellucchio dac 0-1 quindi la dac si conferma in vetta il Castelverde perde in casa contro il Porto 1-0 vittoria esterna del Curtatone contro la Don Bosco 3-0 del Gonzaga sullo Sported Maris avete visto l'uno a uno tra Leo e Casteldario il Castelvetro vince in maniera rotonda sul campo del Pescarolo altra vittoria esterna quella delle PSG sul campo del Pomponesco in classifica quindi Giacomo continua il duello in vetta tra Dac e Castelvetro che adesso smettiamo di dire che prima o poi scoppierà perché ormai non fa più notizia se la giocheranno fino alla fine anzi mi viene da dire che il Casteldario dovrà cercare di non mollare per non far scappare la coppia di testa sì esatto deve cercare di stare più attaccato possibile a queste due formazioni che stanno girando veramente a mille falliscono pochissime pochissime partite insomma nell'ultimo periodo hanno sempre o pareggiato o vinto da segnalare purtroppo in coda la picchiata del Pomponesco che è pienamente coinvolto ora in zona play-out e soprattutto anche del San Lazaro che col Casar Romano mi pare che sia giunto alla quarto o quinta sconfitta consecutiva quindi ecco una salvezza che sembrava praticamente in tasca adesso non è più così vale per tante squadre questo l'abbiamo visto anche nel corso di questa puntata ultime immagini della giornata immagini della capolista di seconda categoria Sporting Club che era ospite del Soave la sesta sinfonia non è arrivata ma lo Sporting Club ha comunque un piede in prima categoria il pareggio ottenuto dai ragazzi di Pozzi in quel di Soave è infatti permesso di allungare sul Suzzara sconfitto per 2-1 da Acquanegra sul Chiese nel clou di giornata 5 ore ai punti che separano la capolista dalle inseguitrici Suzzara e da Acquanegra per l'appunto un bottino non indifferente considerando che al termine del campionato mancano solamente 5 giornate i rosso-blu inoltre da qui alla fine potranno godere di un calendario ampiamente alla portata che probabilmente consentirà Contesini e compagni di accedere direttamente alla categoria superiore evitando così i temibili spareggi la sfida del comunale ha visto un Suave dallo spirito battagliero affrontare la corazzata del Girone senza timor reverenziale ribattendo colpo su colpo e mettendo in seria difficoltà la retroguardia ospite nella prima mezz'ora dominare sono i Granata ma come spesso succede a segnare in pieno recupero è la squadra avversaria Righetto ben imbeccato sfrutta la disattenzione della retroguardia locale fulminando Moratello per lo 0-1 il team di Avona però ha il merito di non abbattersi presentandosi in campo nella ripresa smagnoso di recuperare lo svantaggio a bucare la porta della capolista ci pensa Dragovic al minuto 62 quando di testa pesca il meritato 1-1 cogliendo al volo il perpetuo assist di Tullio da qui alla fine poi poco nulla da segnalare solo applausi per questo Soave applausi per il Soave e applausi anche per lo Sporting perché se andiamo a vedere la classifica nonostante questo possiamo chiamarlo mezzo passo falso il vantaggio è considerevole con il Suzzara battuto come diceva Giacomo dall'acqua negra il Dosolo ha vinto 3-1 a Poggio Rusco però insomma è sempre a più 5 lo Sporting quindi insomma campionato forse ipotecato metto il punto di domanda sì ma io anche lo toglierei perché posto il fatto che comunque negli scontri retti sarebbe in vantaggio il Suzzara perché ha vinto il ritorno 2-0 a Cerlongo qui comunque sono 5 punti 5 punti sono tanti ma soprattutto come si diceva anche nel servizio lo Sporting Club ha anche un calendario molto favorevole per esempio affronterà l'Olimpia che in pratica è già spacciato quindi insomma il vantaggio tu ti senti di togliere questo punto di domanda sì il campionato può perderlo solo lo Sporting bene quindi Suzzara e Acqua Negra vinceranno in carrozza da qui a fine del campionato vista la tua profezia no scherziamo speriamo che insomma sia comunque aperto fino all'ultima giornata velocemente perché il tempo è quasi finito terza categoria risultati da andare a vedere l'ultimo turno partiamo dall'ultimo che è quello più importante cioè il Rivalta non ha avuto pietà della cannetese terz'ultima rifilando 5 gol il Rivalta conferma il suo ottimo momento se andiamo a vedere la classifica di terza categoria vedremo un Rivalta a più 4 sul Malavicina però insomma qui i giochi sono ancora abbastanza aperti 4 punti sì giochi riaperti qua non lo togli il punto di domanda però diciamo che il Rivalta ha già riposato quindi in pratica avrebbe in teoria virtualmente 3 punti in più esatto però nell'ultimo periodo è stata piuttosto è stata piuttosto si sbilancia già più se devo puntare su una squadra appunto sul Rivalta ovviamente famoso puntiamo un euro andiamo in terza B perché il tempo è già praticamente finito qui lo diciamo sempre non ci vuole essere un padrone di questa categoria il Boca doveva approfittare del riposo del Liveco su Zara e puntualmente ha perso quindi vince il Felonica 2 a 1 e quindi il campionato rimane apertissimo vediamo in un lampo la classifica con l'Iveco a quota 46 punti il Boca a 44 qui non lo tolgo io il punto di domanda perché si deciderà tutto credo nello scontro diretto sì Felonica però ammazza grandi perché due settimane fa ha battuto l'Iveco e domenica ha battuto anche il Boca quindi ci sarà proprio da lottare fino alla fine qui per per passare direttamente in seconda bene siamo in chiusura io ringrazio di cuore Mauro Bonacorsi in bocca al lupo visto le ultime partite anche se sei di fuori provincia speriamo di vederti anche l'anno prossimo così tornerai a trovarci grazie a Giacomo Lasagna grazie a te grazie Mauro un po' di pubblicità poi arriva Matteo Bursi con i giovani con Calciomania Giovani vi ricordo la nostra pagina di Facebook che si chiama ancora Super Match Dilettanti perché siamo tantissimi veniteci a trovare ci vediamo la settimana prossima